Verò io e tuttavia, ma col cavolo! Dai, attacchiamo! Andiamo in puglia adesso! Oddio! Oddio! Ma dobbiamo ammazzarli? Che cosa mi ha dato un pugno? Ma che casino abbiamo fatto? Ma chi è che spara poi? Ah, questo! Oddio, devo stare a finire! No, aiuto! Aiuto! L'ho fatto! Mi ha avuto pure la vecchia a darci una mano! Dai, vasco, spara! Ora c'è altro! Guarda che se lo so! Mamma mia, ma che cosa è successo? Io pensavo che dovevo dare un pugno a quello, non che tutti si rivoltavano contro! Perché l'ho fatto a salire in aria! Mi sa che dobbiamo rifare col pezzo! Mamma! Poi anche il bengue, poi! Mi ha fatto prendere un colpo! Mi stavo vorrendo da ridere! Oh, mamma mia! Scusate, non mi fai!